Ho avuto un parto cesareo che quindi è stato programmato con poche ore di anticipo per quanto mi riguarda, per i medici routine, capisco. Mi si era parlato in una fase iniziale di un tipo di anestesia che mi aveva comunque permesso di vedere Alice e di poterla accogliere. In realtà poi all'ultimo sono accorti che avrei dovuto fare un'anestesia totale e quindi questo ha comportato che io fossi addormentata quando Alice è nata e per più di 24 ore non ho potuto vederla perché nella fase iniziale comunque anche io ho dovuto riprendermi sia dall'intervento che da questo traccollo del mio corpo che però molto velocemente si è ripreso. Ho avuto la fortuna molto rapidamente di riprendermi fisicamente parlando da questo problema della preeclampsia che in due settimane mi aveva debilitato e in pochi giorni il mio corpo ha ritrovato le energie. Alice dal canto suo ha avuto un inizio comunque difficile essendo piccola pesava un chilo e venti e è stata accolta in terapia intensiva da maniche l'hanno amata e coccolata come avrei potuto fare io e forse anche di più in alcuni casi perché sapevano anche come toccarla. Mentre la mia inesperienza di vedere una bimba così piccola tante volte la paura era adesso la rompo. Loro invece non avrebbero potuto romperla e nonostante gli alti e bassi per cui le montagne russe a cui mi hanno abituato in questi due mesi di terapia intensiva sia Alice che i medici posso dire che le esperienze passate sono molto forti. Il senso di rabbia è un ricordo che penso non potrò cancellare. Un bimbo purtroppo è mancato durante quel periodo per cui c'è un senso di frustrazione fortissimo perché nelle nostre mani dei genitori non c'è praticamente nulla se non il tentativo di passare l'affetto. È tutto nelle mani di questi fantastici medici, angeli, infermieri che assistono ai nostri bimbi durante il periodo di dirigenza e che ci fanno vivere la cosa in un modo più umano.